Far viaggiare le idee è il titolo della quarta edizione del Festival delle Città Impresa, una manifestazione che si tiene in contemporanea su tutto il territorio del nord-est, quindi coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, ed è una manifestazione che si inserisce nel percorso di candidatura del nord-est a capitale europea della cultura. Far viaggiare le idee significa ragionare su due aspetti fondamentali. Il primo, le infrastrutture fisiche e materiali anche, quindi le infrastrutture di trasporto e le infrastrutture di comunicazione necessarie alle nostre imprese per recuperare competitività. Ogni imprenditore sa quanto sia difficile trasferire le merci da questo territorio e dall'altra parte porre l'accento su quello che probabilmente è il nostro vero e unico grande fattore competitivo, che è appunto la cultura. La cultura non intesa come arte ma come coltivazione dell'intelletto, che è quella che ci permette di riempire di contenuti i nostri prodotti, di contenuti di design, di innovazione, di contenuti di bellezza e che li rendono unici nel mondo e ci permettono di progredire e di crescere. L'obiettivo quindi di questo festival è quello di ragionare su questi contenuti per dare contenuti alla candidatura del Nord-Est a Capitale Europea della Cultura, che è una grande occasione per questo territorio per immaginare e costruire il proprio futuro. La regione Friuli-Venezia-Giulia presenterà 10 eventi dentro questo appuntamento, che si svolgeranno un po' in tutta la regione, in particolare a Udine-Tavagnacoma, ma coinvolgeranno anche Pordenone, Gorizia e Trieste e Capriva del Friuli e il ruolo che può giocare in questo festival, in questa piattaforma di discussione, in questa piattaforma progettuale, è un ruolo da protagonista, così come lo sta giocando e di questo dobbiamo essere grati alla regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia stessa nel percorso di candidatura del nostro territorio a Capitale Europea della Cultura 2019. Un'occasione per ragionare sul nostro futuro e per immaginarlo e per darci chance di crescita.